Musica Sabato 13 aprile, ben ritrovati con la nostra informazione. A Randazzo, in un terreno demaniale, i carabinieri hanno scovato sotto delle pietre un bidone in plastica con all'interno numerose munizioni. Non è il primo rinvenimento di questo tipo che i militari dell'AM hanno effettuato nelle campagne di Randazzo. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Randazzo, supportati dallo squadrone leportato Cacciatori di Sicilia e dai colleghi della compagnia di intervento operativo CIO del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno effettuato mirati ed imponenti rastrellamenti in alcuni fondi agricoli, nei quali sono state rinvenute oltre 195 munizioni per arma da sparo. L'attività in questione è l'ultima di una serie di operazioni recentemente effettuate, nel corso delle quali i militari dell'arma hanno rinvenuto armi e munizioni occultate sempre in terreni incustoditi. Tra i recuperi più eclatanti fatti dai carabinieri di Randazzo si ricorda quelli del 2023 in contrada da Galalonga, sembra Randazzo, dove all'interno di un terreno hanno trovato e sequestrato due fucili e otto cartucce da caccia. Quello dello scorso dicembre 2023, durante il quale sono stati trovati oltre 250 colpi d'arma da fuoco e un silenziatore, e quello del 2019, sempre in un agro di Randazzo, contrada a Murazzo Rotto, dove i militari dell'arma hanno scovato un vero e proprio arsenale interrato composto da una pistola a tamburo, tre fucili e numerose munizioni e hanno arrestato in flagranza di reato un uomo. Quest'ultimo recentemente è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione nell'ambito dell'attività denominata terra bruciata. Ed è proprio in contrada a Murazzo Rotto che in questi giorni sono state rinvenute altre munizioni. Passato a setaccio un terreno demaniale, con l'ausilio del metal detector, i militari dello squadrone riportato Sicilia hanno rinvenuto, ben occultato sotto alcune pesanti pietre laviche, un bidone in plastica di colore blu ed ermeticamente chiuso, che conteneva 195 munizioni di vario calibro. Il sequestro ha consentito di sottrarre munizioni alla criminalità locale, riducendone così la capacità offensiva. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno scoperto una stalla abusiva sempre nel capolocchettineo. Durante l'operazione di controllo sono state denunciate due persone per maltrattamenti di animali, sequestrati anche due cavalli. Sentiamo. Maltrattamento di animali, esercizio abusivo della professione veterinaria e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Sono questi i reati contestati a Catania dai carabinieri del comando provinciale di due uomini di 30 e 37 anni, denunciati a piedi libero. I 37 anni, da quando accertato dai militari dell'arma, ha allestito nel quartiere di Picanello una stalla assolutamente abusiva, poiché è priva di ogni tipo di autorizzazione, nella quale sono stati rinchiusi quattro cavalli, tra cui un piccolo pony nato da pochi mesi. È stato inoltre appurato che uno dei cavalli è risultato essere di proprietà del Trentenne, il quale a sua volta avrebbe gestito un'altra stalla situata nei paraggi e risultata in regola. Il Trentenne è stato anche lui denunciato dai carabinieri per aver affidato l'animale al vicino di stalla, senza le previste autorizzazioni e certificazioni, grazie alle quali è possibile trasferire gli equini da un ricovero all'altro, anche perché ogni spostamento prevede che venga preventivamente informato il servizio veterinario dell'Asp. Nella stalla, infatti, che aveva un tetto di altezza inferiore ai 3 metri, all'interno di un ammadio in legno, i militari hanno trovato numerose confezioni di farmaci, sia per uso veterinario che per uso umano, oltre a siringhe e garze. Una siringhe, inoltre, era stata già riempita con quattro fiale di un forte antinfiammatorio ad uso umano, mentre un'altra era stata da poco utilizzata, contenente medicinale secondo i militari dell'arma, che sarebbe imbiegato per non far sentire dolore ai cavalli durante le competizioni o impegnativi sforzi fisici. Il proprietario del luogo non è stato in grado di fornire la prescrizione medica necessaria per l'acquisto e la detenzione di quei farmaci, alcuni dei quali possono essere somministrate esclusivamente da medici veterinari o comunque sotto la loro diretta supervisione. Nei box dei cavalli poi è stato trovato anche un calesse sportivo che avrebbe confermato l'ipotesi dei militari che gli equini venissero imbiegate per cosse clandestine. Al fine di tutelare la salute degli animali, i carabinieri li hanno sequestrati e affidati in custodia giudiziale ad uno stabilimento fuori provincia, poiché nella zona non vi erano strutture che li potevano ospitare, mentre i famici sono stati posti sotto sequestro. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto sotto un cavalcavia d'autostrada 18 Catania Messina in territorio di macchia frazioni di Giare. Il rinvenimento è avvenuto dopo che l'equipaggio di una pattuglia della polizia stradale aveva avviato le ricerche avendo notato un'auto abbandonata sopra il cavalcavia. Sono stati poi i vigili del fuoco intervenuti sul posto a rinvenire il corpo esanime dell'uomo assolto il cavalcavia proprio in corrispondenza della posizione della macchina. Secondo gli investigatori, il 46 ne si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Tragedia. Questa mattina all'interno di un appattamento di Adrano, un uomo di 90 anni, si è tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco. Sul posto è intervenuto un'ambulanza del 118 ma nulla è stato possibile fare per l'anziano. Ad arrivare anche la polizia di Stato del locale commissariato. La mensa sociale di Paternò non chiuderà come era stato annunciato nelle ultime ore. Grazie all'intervento tempestivo dell'amministrazione comunale che provvederà alla messa in sicurezza del tetto della struttura di via Vittoria Emanuele, oggetto di infiltrazione d'acqua, la bisaccia del Pellegrino continuerà la sua opera caritatevole. Il sindaco Nino Naso ha garantito l'intervento nonostante i locali siano di proprietà dell'IPAB. Sabatore Bellia. Sentiamo. La bisaccia del Pellegrino non chiude battente e continuerà il servizio a favore delle persone in difficoltà come ha sempre fatto. A dirlo alla redazione di Star News il sindaco di Paternò Nino Naso da noi contattato dopo che nelle ultime ore si era diffusa la notizia che da lunedì 15 aprile la mensa sociale, la bisaccia del Pellegrino di via Vittoria Emanuele non sarebbe stata più operativa visto che la chiusura era stata decisa dal responsabile della mensa in quanto il tetto dell'immobile che ospita quest'ultimo edificio, ricordiamo di proprietà dell'IPAB Sabatore Bellia, sarebbe pericolante. A confermarci la chiusura era stato proprio Don Sabatore Mazzamuto il diagono che gestisce la bisaccia del Pellegrino il quale ha sottolineato che da tempo aveva chiesto a chi di dovere di intervenire per mettere in sicurezza il tetto. La situazione, ha detto alla nostra redazione Don Mazzamuto, non è più procrastinabile, non posso mettere in pericoli volontari che quotidianamente vengono a svolgere il servizio e tutti coloro che usufruiscono dell'attività svolta dalla mensa sociale. A sbloccare la situazione un incontro last minutes tenutosi nella TAD Martinata di oggi a cui hanno preso patto il sindaco di Paternò Nino Naso, il direttore della Caritas del dodicesimo vicariato padre Nino Pennise e proprio Don Sabatore Mazzamuto. Alla fine è stata raggiunta un'intesa, in particolare lunedì mattina operai incaricate dal comune provvederanno a mettere in sicurezza quella parte del tetto dove si trova la cucina o perlomeno si provvederà a coibendare quella zona della copertura. In questo modo la mezza resterà operativa. Successivamente, dopo che sarà stato raggiunto un accordo tra i comuni, l'IPAB, Sabatore Bellia e la Caritas, si provvederà a mettere in sicurezza quella parte della copertura dell'immobile che presenterebbe maggiore criticità e dove ricade il deposito della bisaccia e pellegrino. L'aria in questione, nell'amore di un tebendo di messa in sicurezza, sarà interdetta e transennata. Il commissario dell'IPAB, Sabatore Bellia, Giovanni Rovito, alla nostra redazione aveva dichiarato che l'Ende non ha le risorse finanziarie per intervenire ed eliminare quindi le criticità esistenti. Fino adesso, ha evidenziato Rovito, la bisaccia del pellegrino non ha pagato al Sabatore Bellia un canone di affitto. La mensa sociale prepara mediamente circa 150 pasti caldi ogni sera e ci sono periodi in cui il numero è raddoppiato, specie nel periodo invernale, quando aumenta il numero degli extracomunitari che vengono nella città per lavoro. Tuttavia c'è da evidenziare che mentre prima la mensa provvedeva principalmente ad offrire un pasto agli extracomunitari, allo stato attuale i cittadini paternesi in difficoltà, supererebbero nel numero gli stranieri. Domani, domenica 14 aprile, è la giornata nazionale che ricorda l'importanza della donazione degli organi. All'ospedale Canizzaro di Catania nei primi tre mesi dell'anno sono stati eseguiti sei prelievi. Sono risultati incoraggianti ma serve sensibilizzazione ancora, dice il commissario dell'azienda Canizzaro, Sabatore Giuffrida. Ben sei prelievi di organi nei primi tre mesi del 2024 e il dato è estremamente incoraggiante che l'unità operativa di anestesia e rianimazione e il coordinamento locale tra pianti hanno consegnato alla direzione generale dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Canizzaro di Catania alla vigilia della giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti di domenica 14 aprile. L'ultimo prelievo in ordine di tempo è quello di un uomo deceduto per emorragia cerebrale che ha donato fegato, reni e corne. Proprio in questi giorni i suoi familiari hanno rinnovato il loro ringraziamento al personale sanitario del Canizzaro per l'affetto e la vicinanza e hanno scritto affinché sia data importanza alla donazione degli organi nella nostra regione, così si legge. Sotto questo profilo l'attività dell'azienda Canizzaro nel primo trimestre del 2024 è stata molto positiva. Il report elaborato dal direttore di anestesia e rianimazione Savino Borraccino, dal coordinatore locale Trapianti Antonella Mo e dal coordinatore infermeristico Matteo Sortino ha evidenziato sei donazioni, tutte con attività di prelievo multiorgano effettuato da equip provenienti da varie città italiane. In tre casi è stato prelevato il cuore, una volta i polmoni. Ciascuna donazione ha consentito di prelevare fegato, reni e cornee. Diventa sempre più importante, dice Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Canizzaro, la dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti registrata all'anagrafe, che consente di esprimere la propria volontà al momento del rinnovo della carta di identità. Nella nostra attività di procuremente abbiamo registrato alcuni casi e i dati forniti dal Centro Nazionale Trapianti confortano in tal senso, anche se il sud Italia è ancora indietro rispetto al centro nord. Rinnoviamo da parte nostra l'impegno a contribuire in raccordo con il Centro Regionale Trapianti, a sensibilizzare la donazione e ringraziamo tutte le equip impegnate sia nelle attività di prelievo, sia nel delicato percorso di assistenza ai pazienti e ai loro familiari. A Costoro, conclude Giuffrida, va la profonda riconoscenza per un gesto che consente ad altri con gravissime patologie di ritornare alla vita. Domani mattina a Bianchevilla sarà inaugurato il lago artificiale di pesca sportiva che è stato realizzato in Contrata Martina. Per l'occasione si svolgeranno delle gare di pesca sportiva. Questo ed altro ancora nelle notizie flash. Vediamo. Sarà inaugurato ufficialmente domani il lago di pesca sportiva dell'azienda agroittica Sicilia in Contrata Martina nel territorio di Biancavilla. La struttura accoglie il laghetto artificiale d'acqua dolce per acquacoltura e pesca sportiva più grande della Sicilia, circa 5.000 metri quadrati per 7 metri di profondità. A realizzarlo è stato il giovane biologo originario di Biancavilla Arturo Mannino, su un vasto appezzamento di terreno che appartiene da secoli alla sua famiglia. L'azienda polifunzionale offre una serie di servizi legati alla fruizione dell'ambiente e dell'ecosostenibilità, allevamento ittico, pesca sportiva, attività didattiche ed eventi gastronomici. Varie le fasi dell'allevamento dei pesci qui coltivati, persico trota, persico reale e tinca. Si punta molto anche al sistema di ricircolo dell'acqua e dell'utilizzo degli elementi di scarto come fertilizzanti per la crescita biologica di varie specie di piante. Il tutto in uno scenario naturale, a dir poco unico con lo sfondo del maestoso Etna. Domani mattina quindi l'inaugurazione alla presenza fra gli altri anche del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno. Per l'occasione si terranno le prime gare di pesca sportiva. Esercitazione regionale antincendio boschivo di protezione civile oggi a Nicolosi ad essere impegnati nella zona dei Monti Rossi. Numerose associazioni di protezione civile con la specializzazione dell'antincendio e anche vigili del fuoco e forestale provenienti da gran parte della Sicilia, fra queste anche provenienti da Biancavilla, Adrano e Paternò. Durante l'esercitazione si sono vissuti momenti teorici e pratici. Presente, fra gli altri, anche il capo del Dipartimento regionale di protezione civile Salvo Cocina. Sabato 20 e domenica 21 a Biancavilla si terrà il secondo raduno ufficiale FIF, Federazione Italiana Fuoristrada. L'evento prevede il primo giorno l'apertura del campo giochi intorno alle ore 16 nel terreno adiecente al viale dei Fiori nei pressi della Rotatoria San Placido e le prove tecniche di fuoristrada per i partecipanti. Il secondo giorno prevede la partenza dei partecipanti dal campo stesso, con roadbook del percorso da effettuare e al rientro previsto intorno alle ore 16 la riapertura del campo giochi con le vetture impegnate nelle prove tecniche di fuoristrada e poi al via la premiazione. Con questa notizia si chiude questa edizione, a me non resta altro che salutare e darvi appuntamento alle prossime. Una buona serata. Grazie a tutti.